Il 19% dei cantieri ispezionati è irregolare, un dato che riguarda una verifica che viene compiuta su una media di 300 cantieri all'anno e che porta in primo piano la questione della sicurezza sul lavoro. Ma il numero dei controlli e soprattutto delle infrazioni riscontrate è ancora più alto, in quanto all'interno dello stesso cantiere operano più imprese, una media di circa il 2,6% per cantiere. Un valore, quello della sicurezza, da fare proprio fin da giovani e da pretendere per svolgere al meglio la propria attività è anche un valore aggiunto per le imprese perché far lavorare i dipendenti azzerando i rischi migliora la condizione e la produzione stessa. Molto importanti a questo proposito sia la conoscenza delle norme in materia di sicurezza del lavoro sia la mentalità perché informazione, formazione e assistenza dovrebbero essere sempre garantiti. Tra i settori che vengono spesso ispezionati rientra anche quello agricolo dove spesso giocano un ruolo fondamentale per le problematiche principali i macchinari a volte troppo vecchi. Un altro tema importante in chiave sicurezza è quello degli infortuni. Nel 2016 in provincia di Piacenza si sono verificati 5.105 infortuni, nel 2011 il numero era più alto, 5.635. È cresciuto invece il numero degli infortuni mortali che passano dai 6 del 2015 agli 11 del 2016. Anche se la vera sfida ora è rappresentata dalle malattie professionali, magari in realtà dove si devono spostare pesi non di grandi dimensioni ma in grosse quantità, senza considerare quelle latenti. La Regione Emilia-Romagna in questo ambito ha deciso di reinvestire il 75% del ricavato dalle sanzioni emesse in progetti di tutela della sicurezza dei lavoratori e dentro l'anno sarà approvato un progetto dedicato proprio alla prevenzione nel campo della logistica.